Musica Un caro saluto, ben trovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con le notizie. In apertura una tragica notizia di cronaca, un morto e quattro feriti, questo il drammatico bilancio di un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 624 in territorio di Sambuca di Sicilia, tra le località Gulfa e Misilbesi, coinvolta una famiglia di menfi, coniugi e un bambino all'interno dell'auto. Il deceduto è l'uomo, la moglie verse in gravissime condizioni sulla sede stradale atterrato un elicottero del 118 che ha prelevato alcune delle persone coinvolte e trasferite in un ospedale di Palermo. Il bilancio dei feriti potrebbe non essere ancora definitivo ed altronde la stessa dinamica dello scontro è tuttora in fase di accertamento. Le notizie sono ancora frammentarie, l'incidente avrebbe coinvolto diversi mezzi, il tratto interessato è stato chiuso al transito veicolare e il traffico deviato in arterie secondarie. Ne sono comunque scaturiti lunghi incolonnamenti. La foto che vedete è tratta dal sito Il futuro dipende da te. Era entrata nell'indagine sull'arresto il capo mafia Matteo Messina Denaro dopo che gli inquirenti avevano scoperto che si era incontrata fino ad almeno due giorni prima con il boss Matteo Messina Denaro dentro un supermercato di Campobello di Mazzara. Adesso per la maestra elementare Laura Bonafede è scattato l'arresto. Indagata anche la figlia Martina. Per il GIP del Tribunale di Palermo Alfredo Montalto è incredibile ed inspiegabile che negli anni il boss abbia potuto sfuggire ai controlli e alle innumerevoli operazioni di polizia giudiziaria sul territorio compreso tra Castelvetrano e Campobello di Mazzara. Sentiamo Massimo D'Antoni. Per gli inquirenti la maestra elementare Laura Bonafede, la figlia dello storico boss di Campobello di Mazzara Leonardo Bonafede, sarebbe stata uno dei perni intorno al quale ha potuto ruotare la clandestinità di Matteo Messina Denaro già a partire dalla metà degli anni 90. E' questa una delle ragioni del suo arresto, disposto dal GIP del Tribunale di Palermo Alfredo Montalto su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, arresto operato dai carabinieri del ROS. L'accuso è grave, favoreggiamento e procurate in osservanza di pena, aggravati dall'aver agevolato Cosa Nostra. E' indagata per gli stessi reati anche Martina Gentile, la figlia di Laura Bonafede. Laura Bonafede è la donna diventata celebre per il fotogramma delle telecamere di videosorveglianza del supermercato, dove fino a due giorni prima del blitz alla clinica La Maddalena aveva incontrato il capo mafia. Ma secondo gli inquirenti Laura Bonafede non solo è stata la donna di Matteo Messina Denaro, ma ha fatto parte a tutti gli effetti della rete di complici che ha protetto il boss durante la sua latitanza. La maestra avrebbe provveduto alle necessità di vita quotidiana del latitante, gli avrebbe fatto la spesa per fargli avere rifornimenti, temendo che potesse essere contagiato dal covid e non potesse uscire. Ancora avrebbe condiviso con lui un linguaggio cifrato per tutelare l'identità di altri protagonisti della rete di protezione del boss, curando con maniacale attenzione la sua sicurezza. Ma i due si sono anche incontrati regolarmente per anni in segreto, in due luoghi indicati nelle lettere d'amore con termini cifrati, Tugurio per uno, Limoneto per l'altro. Laura Bonafede, scrive il GIP Montalto nell'ordine di cattura, dopo aver conosciuto Messina Denaro nel 1997, ha addirittura instaurato con lo stesso uno stabile rapporto quasi familiare, coinvolgente anche la figlia Martina Gentile, durato dal 2007 sino al dicembre 2017, quando venne necessariamente interrotto a seguito di un'importante ennesima operazione di polizia, per poi riprendere appena calmatesi le acque negli ultimi anni, sino all'arresto del latitante il 16 gennaio 2023. La maestra, insomma, era legata a Matteo Messina Denaro da quello che i magistrati definiscono un pluridecennale rapporto ed aveva, in molteplici occasioni, condiviso con lui spazi di intimità familiare, a volte in compagnia della figlia, tanto che i tre si definivano una famiglia. I due, secondo quanto scritto dalla stessa Bonafede in una lettera ritrovata dai carabinieri del ROS, si sono conosciuti nel 1997, quando Matteo Messina Denaro era già latitante insieme al padre Francesco. entrambi erano protetti da Leonardo Bonafede, il padre di Laura, che aveva concesso alla figlia di far visita a Matteo. Cugina del geometra Andrea Bonafede, colui che ha prestato l'identità al boss, allo stesso modo cugina del dipendente comunale, anche lui di nome Andrea Bonafede, che provvedeva a fargli avere le ricette mediche firmate dal dottor Alfonso Tumbarello, e necessarie le terapie da affrontare per le cure del cancro, nonché di Emanuele Bonafede, uno dei vivandieri del padrino arrestato insieme alla moglie. La maestra è sposata col mafioso ergastolano Salvatore Gentile, tuttora detenuto per aver commesso due efferati omicidi su ordine proprio di Matteo Messina Denaro. Per la figlia di Laura Bonafede Martina, la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, in questo caso però il GIP ha rigettato l'istanza per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, pur stigmatizzando i comportamenti della ragazza legata al capo mafia da un forte rapporto di affetto, quasi di adorazione, affetto peraltro intensamente contraccambiato da quest'ultimo, che apprezzava soprattutto l'adesione di Martina ai valori mafiosi del nonno Leonardo Bonafede, mettendola a confronto con i differenti comportamenti della propria figlia naturale. Nella sua ordinanza il GIP parla di scoperte sconcertanti sui 30 anni del ricercato numero uno di Messina Denaro. Quel che disorienta, dice, è che in tutto questo lunghissimo arco temporale la tutela della latitanza è stata affidata non a soggetti sconosciuti ed inimmaginabili, bensì ad un soggetto conosciutissimo dalle forze dell'ordine, cioè a quel Leonardo Bonafede da sempre ben noto, oltre che come reggente della famiglia mafiosa di Campobello di Mazzara, soprattutto per la sua trascorsa frequentazione ed amicizia con il padre di Messina Denaro. Il GIP si domanda, nemmeno tanto tra le righe, come sia stato possibile che la Bonafede, intercettata dalla polizia almeno fino a due mesi prima della cattura del capo mafia abbia potuto beffare gli investigatori. Le indagini dei carabinieri del ROS seguite alla cattura del padrino, secondo il giudice, mettono in luce l'incredibile, dispiegabile e insuccesso di anni ed anni di ricerche in quella ristretta cerchia territoriale, compresa tra Castelvetrano e Campobello di Mazzara, costantemente setacciata e controllata, con i più sofisticati sistemi di intercettazione, di videosorveglianza e di tutti i luoghi strategici, che tuttavia, come oggi si è scoperto, non hanno impedito che il più ricercato latitante del mondo potesse condurre in quegli stessi luoghi e per molti anni, almeno 26, una normale esistenza senza neppure nascondersi troppo, ma anzi palesando a tutti il suo viso riconoscibile, almeno per i tantissimi che lo avevano conosciuto personalmente. GIP convinto che ci siano prove tuttora nascoste degli affari criminali di Messina Denaro, soprattutto per la cura maniacale dell'attitante nella notazione di qualsiasi accadimento nella sua vita. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido, dal PM della DDA Gianluca De Leo. Il carcere di Trapani come un colabrodo è questa la situazione che emerge nell'inchiesta denominata Alcatraz, culminata con 24 misure cautelari. Dentro le celle entravano perfino droga e telefoni cellulari. Vediamo. Ci sono anche due agrigentini tra i 24 destinatari di misure cautelari, 17 in carcere, 5 domiciliari e 2 obblighi di dimora da parte della magistratura di Trapani nell'ambito dell'indagine denominata Alcatraz e che ha permesso di scoprire che all'interno del carcere trapanese entravano droga e telefoni cellulari. Si tratta di James Burgio, 31 anni, di Porta Empedocle, di Gerlando Spampinato, 53 anni, di agrigento. Stupefacenti e telefonini entravano in carcere dall'alto con i droni oppure nascosti dentro palloni da calcio, scarpe. Per gli inquirenti tutto questo non sarebbe stato possibile senza la complicità di tre agenti di polizia penitenziaria, uno dei quali nel frattempo è deceduto, gli altri due invece oggi sono in pensione. Gli arresti sono stati effettuati non solo a Trapani, ma anche a Mazzara del Vallo, a Palermo, a Benevento, a Bari, a Porta Empedocle, ad Avola. Nei giorni scorsi un cane antidroga dei carabiniere aveva permesso agli agenti di polizia penitenziaria di scoprire che della droga era nascosta nella scarpa di un detenuto. Il carcere di Trapani Pietro Cerulli era un luogo benedetto dai detenuti. I reclusi lo indicano come luogo dove si tengono atteggiamenti tolleranti di alcuni agenti della polizia penitenziaria che davano la propria e compiacente collaborazione. Lo ha detto il procuratore capo di Trapani Gabriele Paci nel corso della conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dettagli dell'operazione Alcatraz. È stato accertato che alcuni tratti del muro di cinta della casa circondariale non erano videosorvegliati e questo consentiva di introdurre anche palloni contenenti microtelefoni e droga. Tra gli indagati, due detenuti condannati con sentenza definitiva per omicidio, uno appartenente alla Sacra Corona Unita e uno alla Camorra. I due erano in contatto con un agente penitenziario, oggi detenuto, reggevano il traffico di droga e telefonini con il carcere. I fatti si riferiscono ad un periodo compreso tra gli anni 2018 e 2022. Due persone detenute in un'altra casa circondariale in una intercettazione fanno riferimento al Cerulli e commentano che a Trapani è molto facile portare droga e cellulari. Un'indagine molto complessa, approfondita di una situazione grave, di un malcostume diffuso e conosciuto, ha detto il procuratore Paci. Gli indagati rispondono a vario titolo di corruzione, spaccio di droga, abuso d'ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, evasione, accesso in debito di dispositivi idoni alla comunicazione da parte dei detenuti. Per i magistrati, l'ex deputato regionale del PD, Paolo Ruggirello, è stato condannato a 12 anni di carcere per concorso esterno in un'associazione mafiosa. È stato il punto di contatto tra mafia e politica, il collettore dei voti di Cosa Nostra nella provincia di Trapani, il regno di Matteo Messina Denaro. Per lui, il PM Gianluca De Leo aveva chiesto la condanna a 20 anni. L'inchiesta che ha condotto al processo è stata coordinata dall'aggiunto Paolo Guido e ha portato all'arresto di 28 tra boss fedelissimi, fiancheggiatori del padrino di Castelvetrano. Pene pesanti anche per tre dei suoi coimputati, Antonino Buzitta, 21 anni, Vito Gucciardi, 12, e Vito D'Angelo, 16. Mentre Vito Mannino ha avuto un anno e otto mesi e l'ex consigliere comunale di Erice, Alessandro Manuguera, un anno pena sospesa. Per quest'ultimo, il pubblico ministero aveva chiesto otto anni ma il reato è stato derubricato da scambio elettorale politico-mafioso a corruzione elettorale. Assolti Marcello Pollara e Giuseppe Grignani. Voltiamo pagina. Il comune di Sciacca ha giudicato l'organizzazione del prossimo carnevale. Ad occuparsene sarà la meridiana di Agrigento, una delle due che hanno presentato l'offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. Altre società che avevano presentato manifestazioni di interesse sono rimaste fuori. Alcune di queste denunciano problemi nella piattaforma del MEPA. I dettagli in questo servizio. Sarà la società meridiana di Agrigento con legale rappresentante Silvio Alessi ad organizzare l'edizione di maggio del carnevale di Sciacca. Si è conclusa oggi la procedura di aggiudicazione dell'avviso pubblico preceduto dalle manifestazioni di interesse e perfezionato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Restano fuori le società saccensi. Delle sei aziende che si erano presentate e che erano state ammesse, le superstiti sono state solo due, oltre alla meridiana anche la ditta Cannizzo. Le altre società non si sono presentate. Stando a quanto si apprende, almeno un paio di loro non sarebbero riuscite per presunte ragioni tecniche a perfezionare la partecipazione con la piattaforma MEPA. Sostengono di aver avuto problemi nella validazione di alcuni allegati e nel momento conclusivo dell'invio dell'offerta. Problemi certamente riscontrati sia dalla Scirocco di Filippo Falautano, sia dal record eventi di Cosimo Rizzuto e a quanto pare anche da almeno una terza società che aveva manifestato la disponibilità ad organizzare il carnevale di Sciacca. Una procedura indubbiamente farraginosa quella della presentazione delle offerte sulla piattaforma MEPA che dunque non avrebbe consentito a molte delle società interessate di completare il cammino per l'eventuale aggiudicazione dei servizi. Difficile ipotizzare che quanti non hanno potuto presentare la propria offerta presentino ricorso ancorché si siano recati al Comune per contestare le difficoltà riscontrate. Non ci sarebbero più i tempi. Un ricorso rallenterebbe l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione e tutto questo ad un mese e mezzo dall'inizio della festa. Ci sono, tra le altre cose, scadenze imminenti importanti come la presentazione del piano di emergenza che è in capo proprio a chi si aggiudicherà i servizi legati al carnevale ma anche la stessa gestione del ticket d'ingresso. L'aggiudicazione odierna è avvenuta come prassi sotto riserva di legge nei prossimi giorni toccherà a quella definitiva. Elezioni amministrative a Sambuca di Sicilia. Questa sera la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Giuseppe Cacioppo in continuità con l'amministrazione in carica da dieci anni e della quale è attuale vice sindaco. La mia non era affatto una candidatura scontata, dice Cacioppo. Sentiamo. Questa sera a Sambuca di Sicilia la presentazione ufficiale è l'inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco Giuseppe Cacioppo sostenuto dalla coalizione Sambuca prima di tutto. Vice sindaco Sciente la sua candidatura si pone in continuità con il progetto che ha portato Sambuca a diventare il borgo più bello d'Italia e ad attuare l'iniziativa delle Casa Un Euro. Dieci anni di attività svolta forse possono essere un po' biglietto da visita. Quello che dobbiamo raccontare è soltanto non quello che faremo ma quello che abbiamo fatto. Sicuramente questo aiuta l'elettore, l'elettore incerto, aiuta magari chi in questi anni non siamo stati capaci di raggiungere attraverso altri mezzi e attraverso anche una campagna elettorale di evidenziare, di correggere anche e di anche ascoltare il cittadino che in un tempo, devo dire, amministrativo non siamo stati capaci non abbiamo raggiunto non c'è stata la possibilità di confrontarci. La candidatura, devo dire, si paventava da tempo ma bisognava attendere i tempi della politica i tempi del partito al quale iniziale faccio parte il PD i tempi di questa grande coalizione che Sambuca prima di tutto che poi ha amministrato il Paese per dieci anni. I risultati li conosciamo abbiamo internazionalizzato Sambuca e abbiamo portato il mondo e Sambuca ma non è solo la stampa abbiamo portato a Sambuca gli interessi di una parte di una parte del mondo di una parte della comunità che ha guardato un territorio già ricchissimo un territorio che era, devo dire, preparato ma gli abbiamo dato un po' il langio per farlo diventare nota a tutti. L'operazione delle case un euro che forse volevamo affrontare non è non sta dentro la casa stessa ma è stato, diciamo, il trampolino per proiettarci al mondo stesso. dico sempre con interesse noi non abbiamo venduto immobili noi abbiamo venduto un territorio fatto di paesaggio fatto di armonia fatto di qualità della vita fatto di cucina fatto di tante altre cose che insieme e insieme ascoltando i cittadini in questo tempo ma insieme a questo bagaglio diciamo a questa esperienza che abbiamo maturato in questi anni li metteremo a regime per aumentare un po' la pilla ancora di Sambuca e con esso dei cittadini che ci vivono. Il dopo Leo Ciaccio a Sambuca di Sicilia vede al momento contrapposti i due esponenti dell'amministrazione comunale anche se Sario Arbisi è stato estromesso dall'aggiunta all'indomani di quella che il sindaco in carica ha definito una fuga in avanti. Arbisi ha deciso di candidarsi dopo avere sostanzialmente compreso che la coalizione e lo stesso PD avevano già da tempo fatto altre scelte. La mia candidatura scontata non era così se ne parlava perché sono stato dieci anni vice sindaco e ovviamente amministratore del comune non era nulla scontato se la coalizione mi diceva di fare un passo indietro l'aveva fatto anzi non ho fatto mai un passo avanti nel momento in cui non mi è stato chiesto ho dato solo la disponibilità. Sì potrebbe essere uno scontro ma non mi piace utilizzare il termine scontro la nostra dovrebbe essere un racconto della comunità immagino questa campagna elettorale come un percorso ognuno dove racconterà il progetto svolto è il progetto da costruire insieme insieme alla comunità stesso speriamo che ci siano le condizioni per farlo vinca il migliore dico sempre ma soprattutto la cosa più importante vinca Sambuca questo è un bel progetto è un arbusto che abbiamo veramente innaffiato ogni giorno facciamo che diventa un buon albero un albero importante e sotto il quale noi cittadini sambucesi ma noi cittadini del territorio possiamo starci elezioni amministrative a Menfi Ludovico Viviani accoglie il sostegno di Ezio Ferraro è presente in anticipo rispetto ai tempi previsti i primi candidati al Consiglio Comunale oltre a Ferraro medico già candidato a sindaco nel 2018 e capogruppo dell'opposizione negli ultimi 5 anni saranno candidati nella lista civica verso Menfi collegata a Viviani anche Antonella Lesi e Pinuccia Occhi Pinti in un quadro politico completamente mutato abbiamo deciso di aderire al progetto verso Menfi che ha una prospettiva in grado di esprimere competenza capacità innovazione ha detto Ezio Ferraro a supporto della candidatura a sindaco di Ludovico Viviani l'apporto di questi tre candidati al Consiglio Comunale dichiara da parte sua Viviani un grosso contributo di qualità verso un progetto civico inclusivo e aperto e ancora le amministrative di Menfi le associazioni Contrada Fiori Puccia e Profiori incontrano il movimento civico 92.013 il candidato a sindaco Vito Clemente l'incontro si svolgerà sabato prossimo 15 aprile alle 9.30 presso la sede dell'associazione Profiori in piazzetta degli Oleandri a Lido Fiori le tematiche al centro dell'incontro saranno rete idrica e fognaria pulizia dei valloni servizi nella Contrada e viabilità ci fermiamo per una pausa vi aspetto per tutte le altre notizie ha destato tantissima commozione in città e nel mondo dell'associazionismo la morte di Franco Zammuto il segretario della Camera del Lavoro di Sciacca morto ieri all'età di 69 anni dopo aver lottato per tanti anni contro una grave malattia i funerali oggi pomeriggio alle 16.30 alla chiesa della Perriera anche oggi tante note di cordoglio e di tristezza per la sua scomparsa sentiamo oggi pomeriggio alle ore 16.30 presso la chiesa della Perriera i funerali di Franco Zammuto il segretario cittadino della Camera del Lavoro di Sciacca scomparso ieri all'età di 69 anni anche oggi sono tantissime le note di cordoglio che provengono dal mondo dell'associazionismo se ne va un amico e un compagno di tante battaglie civiche dichiara l'associazione ora basta con la sua presidente Caterina Sant'Angelo lo ricorda come un indomabile combattente per i diritti civili e la tutela dei lavoratori l'associazione L'altra Sciacca presieduta da Stefano Siracusa che con Franco Zammuto ha condiviso tante battaglie come quelle per l'acqua e per le terme A proposito della battaglia per l'acqua pubblica ad intervenire oggi sono anche il forum siciliano dei movimenti per l'acqua e i beni comuni della Sicilia il centro consumatori Italia Sicilia Intercopa di cui Franco Zammuto era il coordinatore se ne va una persona da sempre impegnata nel sociale e nelle lotte civili che si è sempre prodigata senza risparmiarsi per il bene della società in cui viveva dichiarano i movimenti per l'acqua pubblica anche AICA l'associazione idrica comuni agrigentini manifesta il proprio cordoglio professionista serio ed ineccepibile persona per bene che ha sempre combattuto per difendere gli interessi dei cittadini e dei più deboli afferma Alfonso Provvidenza presidente dell'assemblea dei sindaci di AICA con la scomparsa di Franco Zammuto dirigente politico e sindacale di altissimo profilo che ha lasciato ovunque il segno tangibile della sua presenza e del suo lavoro se ne va la parte migliore di questa nostra città così il segretario provinciale del partito democratico Simone Di Paola noi conclude Di Paola continueremo a portare avanti le battaglie per cui Zammuto ha speso la sua interesistenza di dirigente sindacalista che si è sempre speso per i diritti dei lavoratori parla oggi anche il presidente della conf commercio provinciale di Agrigento Giuseppe Caruana che ne ricorda gli alti valori etici morali e sociali cordoglio anche dal comitato di quartiere Sant'Agostino Sciacca Este presieduto da Stefano Scaduto per la scomparsa di Franco Zammuto socio e sostenitore dell'associazione di cui condivideva finalità ed obiettivi Agrigento capitale della cultura 2025 è una vittoria del territorio ma adesso arriva la parte più complessa quella della gestione e realizzazione del progetto è quanto ha evidenziato Nenè Mangiacavallo presidente del consorzio universitario agrigentino tra i promotori della candidatura della città dei templi a capitane della cultura nel corso della trasmissione l'ospite che andrà in onda oggi sulla nostra emittente c'è un estratto sentiamo Nenè Mangiacavallo presidente del consorzio universitario e tra i promotori della candidatura poi vincente di Agrigento capitale della cultura 2025 il protagonista della nuova puntata della trasmissione l'ospite in onda oggi sulla nostra emittente una grande opportunità per tutto il territorio agrigentino ma adesso dice Mangiacavallo arriva la fase più complessa ora comincia una fase nuova il 31 di marzo la giornata della proclamazione io non lo considero soltanto un significativo punto di arrivo io lo considero un importante fondamentale punto di partenza e comincia la fase più delicata perché bisognerà tenere fede al più alto livello possibile a quello che è stato scritto nel progetto nel dossier implementarlo svilupparlo e principalmente realizzarlo è quello il problema vero e per poter realizzare questo programma c'è bisogno di professionalità specifiche non possiamo pensare che possa essere gestito a livello artigianale o a livello amatoriale per cui la prima cosa da fare ancora non ci abbiamo messo mano perché vogliamo riposarci una settimana dopo la tensione accumulata specialmente negli ultimi giorni la prima cosa alla quale si dovrà lavorare sarà la governance che dovrà occuparsi della gestione di questa fase ma governanza non significa soltanto ad esempio noi abbiamo pensato ad una fondazione non significa soltanto questo perché poi la struttura dovrà essere articolata e complessa sia pure snella nelle procedure perché ci sono vari settori che dovranno essere presi in considerazione il settore del fundraising il settore delle pubbliche relazioni il settore della comunicazione il settore scientifico il settore tecnico organizzativo il settore amministrativo quindi diciamo che si dovrà costruire una macchina da guerra mi lasci usare questo termine che dovrà assumersi la responsabilità di concretizzare un progetto che è stato definito non lo dico io entusiasmante e ricco ma che al di là del valore dei contenuti al di là degli ideali che vengono presi in considerazione degli obiettivi che vogliamo perseguire dovrà concretizzarsi sul piano tecnico sul piano logistico e sul piano realizzativo il progetto di Agrigento capitale della cultura 2025 oltre alle amministrazioni comunali agli enti coinvolti registra notevole interesse da parte di grandi gruppi imprenditoriali ma c'è un notevole fermento anche nel tessuto produttivo agrigentino Nene Mangiocavallo ha fatto riferimento anche alla città di Sciacca io devo dire che anche a Sciacca mi fa piacere sottolinearlo ma non solo a Sciacca in tutta la provincia quelli che io considero imprenditori illuminati non visionari ma di quelli che hanno competenza e vedono molto al di là del piccolo confine provinciale molti di questi imprenditori hanno assicurato non solo disponibilità a livello verbale ma si sono adoperati con delle proposte hanno messo a disposizione la propria esperienza la propria competenza per arricchire di particolari significativi l'impalcatura di questo dossier qualche imprenditore ha pure detto io ci metto x euro per portare avanti questo progetto sia che si vinca sia che non si vinca per cui da questo punto di vista io ho avuto la grande soddisfazione di riscoprire o meglio di scoprire perché non me ne ero mai occupato un mondo imprenditoriale illuminato appassionato vivo nuovi interventi da parte del libero consorzio comunale di Agrigento sono previsti sui ponti e viadotti della rete vialia di competenza dell'ente è stato infatti pubblicato il bando di gara per l'accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo 11 strade provinciali interne anche questi interventi progettati dai tecnici del settore infrastrutture stradali rientrano tra quelli finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di provincia e città metropolitane l'importo a base d'asta dei lavori che dovranno essere eseguiti entro 365 giorni e di 2 milioni e 200 mila euro la gara sarà effettuata in modalità telematica e le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 3 maggio prossimo esclusivamente attraverso il portale a parte del libero consorzio mentre l'apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 8 e 30 del 4 maggio nella sala gare del libero consorzio l'emergenza sanitaria dell'hotspot del poliambulatorio di Lampedusa dove con grande spirito di abnegazione migliaia di migranti vengono accolti ogni giorno non deve distogliere l'attenzione dei problemi della sanità siciliana costretta a fare conti quotidianamente con le drammatiche carenze nelle dotazioni organiche soprattutto nelle aree di emergenza e servizi così il capogruppo del PD all'Ars Michele Catanzaro commenta la richiesta avanzata dal capogruppo della DC Carmelo Pace di una seduta della commissione sanità dell'assemblea siciliana a Lampedusa per verificare le condizioni dell'hotspot dove vengono accolti i migranti e quelle del poliambulatorio che serve ai residenti dell'isola molte aziende sono sguarnite al di là di ogni aspettativa a reparti come pronto soccorso e le rianimazioni ed anche le sale operatorie mostrano difficoltà a poter garantire l'attività la commissione sanità all'Ars un ruolo rispettivo di grande importanza aggiunge Catanzaro non perda di vista il suo obiettivo per inseguire il desiderio di visibilità ieri e oggi a Menfi la carovana della prevenzione programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile presso le unità mobili presenti in piazza Vittorio Emanuele è possibile sottoporsi a mammografie ed ecografie al seno per la diagnosi precoce dei tumori alla mammella iniziativa rivolta alle donne non incluse nei programmi di screening regionali ce ne occupiamo in questo servizio giornate all'insegna della prevenzione del tumore al seno ieri e oggi a Menfi dove è arrivata la carovana della prevenzione programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Comen Italia che nel comune Belicino si realizza grazie al contributo di Cantine Sette Soli e Planeta Pragma e alla collaborazione dell'amministrazione comunale dell'Asp di Agrigento che ha messo a disposizione il proprio personale medico le unità mobili di Comen Italia sono arrivate ieri in piazza Vittoria Emanuele e fino alle 16.30 di oggi pomeriggio sarà possibile sottoporsi gratuitamente a mammografie ed ecografie al seno finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori alla mammella un'iniziativa rivolta alle donne del territorio non incluse nei programmi di screening regionali siamo felicissimi di ospitare un'iniziativa così importante ha dichiarato la sindaca di Menfi Marilena Mauceri fare prevenzione significa salvare la vita ha aggiunto la prima cittadina del comune Belicino screening che prosegue con una media di 50 donne al giorno che si sottopongono a ecografie e mammografie e siamo felici anche ha concluso la sindaca di Menfi che fino a questo momento non è stata riscontrata alcuna patologia caro voli riunione dell'osservatorio regionale voluto dal governo schifani per monitorare le tariffe aeree da e per la Sicilia tra le ipotesi formulate quella di uno sconto sul costo del biglietto aereo per i viaggiatori residenti nell'isola c'è il servizio un contributo economico per i viaggiatori siciliani residenti nell'isola è la costituzione di una rete di aeroporti siciliani di cui farà parte anche la regione queste alcune delle proposte sul tavolo dell'osservatorio per il trasporto aereo l'organismo voluto dal presidente della regione per il monitoraggio del traffico aereo dai per la Sicilia che si è riunito ieri per la seconda volta a Palazzo d'Orleans Al tavolo dell'osservatorio che riunisce tra gli altri i vertici dei sei aeroporti siciliani Enac Università di Palermo e Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti è approdata l'iniziativa del governo illustrata dall'assessore alle infrastrutture di una modalità di sconto applicata unicamente ai viaggiatori residenti in Sicilia e consistente in un contributo economico regionale da applicare a ogni tratta con l'obiettivo di attenuare l'impatto economico del carovoli che si palesa soprattutto durante le festività una ipotesi di sconto sul costo del volo ancora allo studio e da sperimentare e solo per i residenti nell'isola si è parlato inoltre dell'istituzione di un protocollo di intesa fra la regione e le società di gestione degli scali aeroportuali siciliani che insieme contano 20 milioni di passeggeri al fine di cooperare in un'ottica di sistema e sviluppo congiunto nel corso della riunione dell'osservatorio per il trasporto aereo è stata sottolineata alla necessità di portare avanti il percorso di riconoscimento della condizione di insularità e della continuità territoriale per assicurare i giusti benefici ai residenti nel sistema dei trasporti annunciata annunciata infine la richiesta fatta al ministero dei trasporti per migliorare e incrementare i collegamenti ferroviari da e verso gli aeroporti siciliani l'incontro fa seguito al nuovo esposto presentato dal governatore Schifani alla vigilia della Pasqua alla procura della Repubblica di Roma per accertare l'ipotesi di violazione delle norme sulla concorrenza da parte delle compagnie aeree è perita in quanto di proprietà del ministero dell'economia ed esercente a un pubblico servizio anche l'ipotesi di abuso d'ufficio l'esposto è stato inviato per conoscenza anche all'autorità garante per la concorrenza e il mercato al ministro delle infrastrutture e all'ente nazionale per l'aviazione civile il professore Giovanni Ruvolo è stato nominato dal ministero dell'università e della ricerca come componente del consiglio di amministrazione del conservatorio Toscanini di Ribera Ruvolo di Ribera è attualmente direttore dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'ospedale Tor Vergata di Roma e presidente dell'organizzazione di volontariato a cuore aperto che da oltre 20 anni si occupa di progetti di assistenza sanitaria e sociale tra la Sicilia e l'Africa un progetto di sensibilizzazione verso gli animali dal titolo Cani e gatti cittadini come noi è stato inviato oggi dalla LAV di Sciacca in sinergia con gli istituti scolastici locali primo appuntamento all'istituto comprensivo Mariano Rossi vediamo ha preso il via oggi dall'istituto comprensivo Mariano Rossi di Sciacca un progetto di sensibilizzazione verso gli animali il rapporto con l'uomo la necessità di cura e la responsabilità penale del loro maltrattamento o del loro abbandono la campagna di sensibilizzazione verso gli alunni nasce da un'iniziativa della LAV lega antivivivisezione sede di Sciacca in collaborazione con l'assessorato comunale al randaggismo e diritto degli animali tra i protagonisti di oggi anche Filippo un cucciolo abbandonato e in attesa di adozione io sono una volontaria della LAV spiego brevemente che la LAV è un'associazione animalista che si occupa dei diritti e della tutela dei diritti appunto degli animali vita libertà e dignità sono tre parole chiave che noi portiamo avanti senza distinzione tra animale e animale questo progetto LAV che oggi portiamo qui nelle scuole è un progetto che si chiama Cane e gatti cittadini come noi ed è un multimediale didattico creato in collaborazione col ministero dell'istruzione e sono un progetto che parte da un'intervista doppia sul tema dell'adozione ci sono delle slide per sensibilizzare i ragazzi sul tema del randaggismo e come prevenirlo grazie alle adozioni dal canile al microchip e alla sterilizzazione abbiamo deciso di aderire in quanto c'è una sensibilità particolare proprio nei confronti della natura in genere e quindi degli animali di fatti già il nostro giardino e la scuola accoglie una colonia di gatti e quindi quando ho ricevuto questa proposta per l'effettuazione degli incontri con gli alunni al fine di sensibilizzarli alla tematica l'ho accolta molto favorevolmente per accorciare le distanze fra gli uomini o i ragazzi e tutto il mondo animale soprattutto riguardo agli animali d'affezione è un processo questo che stiamo cercando di portare avanti e cominciamo proprio da questo momento formativo informativo e di educazione proprio al contatto anche con gli animali infatti oggi qui abbiamo portato un cagnolino che fra l'altro appunto è suscettibile di adozione e qui stesso abbiamo una colonia felina che vorremmo anche registrare in questo giardino stesso è un momento importantissimo perché attraverso l'educazione delle nuove generazioni dei giovani dei più giovani probabilmente si riuscirà a ridurre una di quelle variabili portanti di questo problema che è appunto il rannogismo e ci crediamo moltissimo io poi come educatore come docente credo moltissimo appunto nell'educazione che parta proprio dai ragazzi più giovani è un progetto fra l'altro che abbiamo sposato e che abbiamo voluto in qualche modo sponsorizzare anche con la mia presenza qui perché oltre ad essere questo un momento appunto formativo molto importante può essere anche volano di una serie di altre iniziative che possono poi aiutarci appunto a contrastare il fenomeno ricordo a tutti che ci sono delle leggi che garantiscono la tutela degli animali e in questo periodo abbiamo vissuto un pesantissimo momento di abbandono appunto di cucciolate sul territorio che diciamo aumenta tantissimo il problema aumenta tantissimo il problema anche della cura di questi animali e naturalmente inficia ulteriormente il rapporto di convivenza fra persone e animali sul territorio sulla ipotesi di un aeroporto d'agrigento è assurdo sentir dire che il problema sono i fondi per la gestione il cartello sociale della provincia commenta così le recenti dichiarazioni del presidente della regione Renato Schifani rilasciate in occasione della sua visita nella città dei templi per il giro di Sicilia siamo stanchi di essere trattati come cittadini di serie C trovare i soldi necessari è solo questione di volontà perché non prenderli per esempio dal capitolo degli stipendi che i parlamentari si sono ancora una volta aumentati non un soldo dal PNRR nulla per strade ferrovie e porti dateci un aeroporto che permetta a questa provincia di decollare per tutte le bellezze che ancora abbiamo e per la storia che ci appartiene si legge nella nota del cartello sociale non basta aver ottenuto la nomina di capitale della cultura adesso per permettere al mondo e all'Italia di godere di questa cultura abbiamo bisogno di infrastrutture degne di tale riconoscimento ma soprattutto degne di questi cittadini che non sono e non vogliono essere secondi a nessuno l'aeroporto ad Agrigento non è solo opportuno è necessario conclude il cartello sociale la giornalista del TG1 Tiziana Ferrario sarà sciacca domani pomeriggio per un incontro letterario in programma alle 18.30 al Circolo Garibaldi nel corso del quale presenterà il suo ultimo libro dal titolo La bambina di Odessa pubblicato da Chiare Lettere sullo sfondo la vita di Lidia Franceschi nata nella città un tempo russa oggi uno dei simboli della resistenza ucraina che nel 1973 subì la perdita del figlio all'epoca ventenne ucciso durante alcuni scontri con le forze dell'ordine a conversare con Tiziana Ferrario sarà il nostro collega Massimo D'Antoni l'iniziativa organizzata dalla libreria Ubic di Ornella Gulino con la partecipazione del club service Innerwill Sciacca Terme Ancora cultura promosso dall'istituzione culturale Federico II verrà presentato sabato 15 aprile alle 18 presso l'auditorium della biblioteca comunale di Menfi il libro di Angelo Amato un'inedita Sicilia eventi e personaggi da scoprire edito dall'ibridine ad introdurre i lavori sarà Gioacchino Mistretta presidente dell'istituzione culturale Federico II interverranno l'editore Franco Sferlazzo e la docente Margherita Alonge che converserà con l'autore l'interessante saggio fa emergere grazie all'amore che l'autore ha per la propria terra la grandezza di una Sicilia fatta di eventi e personaggi unici molti dei quali purtroppo ancora oggi poco noti che l'autore trae dall'oblio ricostruendone tassello dopo tassello storie e vicende un momento artistico sarà curato dal maestro Antoni Ciaccio ancora libri con la rubrica il libro del giorno Omar ha dieci anni e passa le giornate alla finestra sperando che sua madre torni da troppi giorni non viene e lui non sa nemmeno se è viva suo fratello gli strofina il naso sulla guancia per fargli il solletico ma non riesce a consolarlo senza la madre il mondo svapora solo Nada lo calma tenendolo per mano soltanto lei con i suoi occhi celesti è per Omar un desiderio ha undici anni sulla fronte una vena che pulsa se qualcuno la fa arrabbiare è un fratello Ivo grande abbastanza da essere arruolato Nada e Omar sono bambini nella primavera del 1992 a Sarajevo per allontanarli dalla guerra una mattina di luglio un pullman li porta via contro la loro volontà se la madre di Omar è ancora viva come farà a ritrovarlo e se Ivo morisse combattendo mi limitavo ad amare te ispirato a una storia vera è un romanzo di ampio respiro di formazione di guerra e d'amore che si colloca a pieno titolo nella tradizione del grande romanzo europeo con la sua scrittura precisa e toccante Rossella Postorino torna a indagare le nostre questioni private quelle che finiscono per occupare il centro dei pensieri e delle azioni degli esseri umani anche nel mezzo dei rivolgimenti storici più scioccanti mi limitavo ad amare te di Rossella Postorino edito Feltrinelli l'istituto comprensivo e l'indirizzo musicale Mariano Rossi di Sciac con le seconde e terze classi di scuola media ha partecipato oggi ad Agrigento alla fase finale provinciale di Pallavolo categoria cadetti maschile e battendo in semifinale il comprensivo Verga di Canicattì e in finale il comprensivo Montalcini di Agrigento la squadra della Mariano Rossi disputerà la fase interprovinciale il 21 aprile ad Enne e Caltanissetta mentre martedì 18 aprile la squadra di tennis da tavolo avendo vinto la fase provinciale disputerà quella regionale a Messina le squadre sono state allenate dai docenti Alessandro Magro Calogero Maniscalco e Lucia Sant'Angelo Calcio focus sulla bagarre promozione l'ultimo turno del torneo di eccellenza sarà decisivo per stabilire chi verrà promosso in Serie D tra Acragas ed Enna favoriti gli egrigentini perché hanno un punto di vantaggio rispetto agli ennesi vediamo monta l'attesa tra gli appassionati per scoprire chi sarà promosso tra Acragas ed Enna in Serie D il trentesimo ed ultimo turno del campionato di eccellenza girone A prevede infatti le sfide decisive tra Acragas e Resuttana San Lorenzo e quella tra Profavara ed Enna favoriti ovviamente gli egrigentini in virtù del fatto che partono con un punto di vantaggio rispetto agli ennesi i bianchezzurri hanno 69 punti in classifica mentre Enna 68 all'esseneto è prevista la cornice di pubblico delle grandi occasioni anche se gli avversari del Resuttana San Lorenzo di Carini non si recheranno ad aggrigente in vacanza anzi cercano i punti necessari per evitare di dover affrontare gli spareggi play out l'Enna invece non può fare altro che cercare di vincere il proprio incontro e poi attendere notizie dall'esseneto Nicolò Terranova tecnico dell'Acragas vuole mantenere alta la concentrazione in vista dell'ultima partita di campionato senza pensare alla festa che il pubblico sta preparando prima battiamo il prossimo avversario e poi festeggeremo afferma Terranova contro la Don Carlo la posta in palio ha probabilmente contratto entrambe le squadre alla fine il pareggio stava bene a tutti non siamo riusciti ad aumentare il vantaggio ha detto Terranova poi abbiamo subito il pareggio e abbiamo gestito sicuramente all'esseneto ci sarà il grande pubblico prepareremo la sfida come sempre mantenendo alta la concentrazione sappiamo che una vittoria ci consentirebbe di raggiungere il nostro traguardo siamo all'ultimo miglio del nostro percorso afferma il patron biancazzurro Deni il pareggio contro la Don Carlo è stato importante vogliamo concludere il campionato nel modo in cui ci siamo prefissati sin dall'inizio di questa stagione è davvero tutto noi ci fermiamo qui vi ringraziamo per l'attenzione ma vi aspettiamo nelle prossime edizioni per gli aggiornamenti grazie arrivederci a Grazie a tutti.